Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferry, o se preferite Melochi, questo sarà un brevissimo vlog di aggiornamento, pieno di gatti pucciosi, coccolosi e morbidissimi, ovviamente grassi. Il primo argomento su cui vorrei discutere è il fatto che, come avrete notato, sono recentemente uscite due serie di Weplay su due titoli diversi in maniera abbastanza spedita. Il canale ha subito un grosso boost, una grossa accelerazione, tuttavia in questo periodo subire il contrario, ovvero un live ralentamento, dato che, come moltissimi di voi già sapranno, sto registrando una blind run insieme al mio compagno sul suo canale, su Dark Souls 3. Quindi, per quanto la voglia di giocare ci sia, ovviamente il corpo e il cervello richiedono pietà, visto che già registriamo per ore insieme, mettermi a registrare a mia volta da sola per poi montare i video. E come vedrete, i video della prossima serie, di cui parlerò fra poco, sono molto montati, quindi richiedono parecchio tempo e concentrazione. Capite bene che mi viene un po' pesante, quindi non sempre trovo il tempo, ma soprattutto la forza psicofisica di concentrarmi, giocare bene, montare bene, soprattutto divertirmi e farvi divertire. Ragion per cui, ho già previsto, comunque già ho registrato i primi due episodi di cinque probabilmente, quindi non si tratta di un ritardo così marcato, però non ci saranno pubblicazioni giornaliere in questo periodo, ovviamente. Il titolo di cui appunto voglio fare, sto facendo, un terzo replay è Republic. Un titolo che mi aveva incuriosita fin da subito e che mi ha positivamente colpita, almeno fino al punto in cui sono arrivata circa a metà. E come già detto, la mia scelta è quella di pubblicare gameplay uno per uno, chiaramente, ma una volta che avrò finito il titolo, così da avere la garanzia, più o meno, almeno psicologica, di avere un prodotto completo e potervelo garantire con una frequenza comunque ordinata, se non quotidiana. Una piccola nota che voglio fare, però, è che questi video su Republic saranno particolarmente lunghi. Finora abbiamo visto video che non superavano la quarantina di minuti. In questo caso, il primo video supererà l'ora, gli altri, penso, si attesteranno sulla cinquantina. Questo perché ho deciso, in quanto titolo originariamente pubblicato a episodi, cinque episodi, ho deciso di non spezzare il ritmo degli episodi e quindi creare un video per ogni episodio del gioco. Tuttavia, ovviamente, cercherò di snellire molto il gameplay, dato che ogni episodio di gameplay dura circa tre ore e mezzo, quattro ore anche, se si vuole puntare al completismo. Ma, capite bene, che sarebbe stato impensabile realizzare dei video di questa lunghezza, soprattutto senza annoiarvi, visto che con quel titolo non lo conosco e procedo un po' a tentoni, specialmente all'inizio. Ragion per cui i video saranno, appunto, sulla cinquantina di minuti l'ora, però saranno montati in maniera tale da mostrare soltanto gli avvenzamenti di tramo, comunque eventi simpatici e divertenti. Spero che questo non renda troppo pesante la fruizione del video. Casomai, comunque, ricordatevi che nessuno vi obbliga a vedere un video dall'inizio alla fine, fin da subito. Si possono anche fare delle pause o anche vederne un pezzo e poi proseguire, per carità. Tuttavia ho deciso, almeno per questo videogioco, di procedere in questa maniera, ovvero di non fare video più brevi, ma dei pacchetti veri e propri dove inizio e finisco un episodio, proprio per una completezza narrativa, visto che comunque gli episodi sono fatti per essere vissuti nella loro interezza in questa maniera. Ultimo punto, sempre riguardante questo titolo, è il fatto che ho creato un link di affiliazione ad Amazon.it, ragion per cui nel caso vogliate acquistare il titolo, o lo conoscete già, o quando lo vedrete vi interessa, troverete sia nella descrizione di questo video, perché comunque già il link esiste, che in ogni singolo video della serie di Republic, troverete appunto questo link, grazie al quale se cliccherete e acquisterete il gioco, solo tramite quel link garantirete una piccola, veramente piccola, percentuale di commissioni, di introito, anche a me. Si tratta di una cifra davvero simbolica, probabilmente non si supererebbe l'euro all'acquisto, quindi non pretendo di fare i big money, però comunque qualora non vogliate fare donazioni, per carità ci mancherebbe altro, ma avete il piacere di acquistare il titolo perché vi interessa e magari dare un piccolo simbolico supporto al mio canale, sappiate che quei link saranno disponibili nelle descrizioni dei video di Republic e comunque fin d'ora in questo video. So che siete tutte delle belle persone, ma siete tutti molto intelligenti e maturi, quindi vi risparmio il rom, non rompete il cazzo per i link di affiliazione, perché nessuno vi obbliga a donare, se per questo esiste anche il tasto donazione Paypal sulla home del mio canale, pochissimi hanno cliccato, sono stati tutti delle persone deliziose, mi hanno anche iscritto in privato, nessuno obbliga a donare, se lo volete fare lo fate, sappiate che il 100% comunque degli introiti esattamente come le vendite in ebay vengono impiegate per acquistare materiale per il canale, visto che mi renderete conto anche voi che viste le cifre che faccio, sicuramente non mi arricchisco. Ma moralismi del cavolo a parte, io vi lascio alle immagini dei gatti pucciosi, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo, ci sentiamo in un prossimo video, ciao!